E' stato importante andare di nuovo a segno, però penso che soprattutto nel secondo tempo abbiamo dimostrato di stare bene in campo, abbiamo sofferto veramente poco, dopo che abbiamo sbloccato il risultato abbiamo retto bene, penso sia stata fondamentalmente una vittoria meritata. Che comunque contro una squadra che viene qui a Lugano e prova a giocare a calcio e fare la partita per noi è molto più semplice, quindi oggi abbiamo dimostrato di poter tenere testa contro chiunque, dispiace visto l'andamento ultimo e quello che abbiamo fatto oggi per i primi mesi è andato un po' così e così. Però guardiamo avanti, guardiamo avanti con la testa alta e col pensiero fisso che è quello di continuare a fare bene, noi siamo lì, purtroppo ripeto noi dobbiamo fare un'impresa perché dovevamo recuperare tantissimi punti dal Bellinzona, adesso siamo lì a un punto, loro stanno sempre davanti, dobbiamo rimanere umili, tranquilli, concentrati con la consapevolezza che se loro sbagliano noi dobbiamo essere pronti a punirli. Quindi aspettiamo già da domani, iniziamo a pensare alla partita di sabato che è un'altra partita fondamentale e poi prepareremo bene il derby.